Siete pronti a scoprire una novità? Ora vi diciamo di cosa si tratta Meno 3 Meno 2 Meno 1 Siete curiosi, vero? Volete leggere un nostro libro? Un libro che saprà tenervi incollati? Il primo libro di Sara Marino e Andrea Ansevini è finalmente uscito I nostri millefogli sparsi Con la prefazione di Gino Marchitelli Non perdetevi il nuovo libro di Andrea Ansevini e Sara Marino All'interno ci saranno 10 racconti di vario genere Dall'horror al fantasy Dalla violenza di genere alle nostre storie con noi due protagonisti Un libro avvincente, entusiasmante e orribilmente fantasioso Il tutto con molti colpi di scena che vi sapranno catturare I nostri millefogli sparsi Il nuovo libro di Sara Marino e Andrea Ansevini Disponibile in ebook E in cartaceo Se volete lo spediamo anche I nostri millefogli sparsi Il nuovo libro di Andrea Ansevini e Sara Marino Allora che ne dite? Vi abbiamo convinto? Se così fosse acquistateci i numerosi Leggeteci e recensiteci Mi raccomando ci contiamo eh Ciao a tutti da Sara E ciao a tutti da Andrea